Buonasera, buonasera e bentrovati a quest'ultima conferenza del ciclo di storia delle arti, ultima per il 2023, poi riprenderemo in marzo, gennaio e febbraio, no perché saremo molto impegnati per la preparazione della nostra prossima mostra che sarà inaugurata il 15 febbraio, quindi lasciamo passare quella, spero che ve la godrete, ma nel frattempo fino al 7 gennaio c'è Pensiero Video che vi invito a visitare, aperta anche domani se qualcuno avesse voglia l'8 dicembre, e quindi appunto ci ritroveremo poi in marzo, aprile, per qualche altro incontro sull'arte, a questo punto saremo negli anni Sessante, via via ci avvicineremo verso la nostra contemporaneità. Quest'oggi, questa sera, come vedete dal titolo e come annunciato, parliamo della Scuola di New York, di fatto si tratta del trasferimento della capitale mondiale dell'arte dall'Europa agli Stati Uniti, l'avevo anticipato la volta scorsa ed è ciò che appunto avviene anche per un motivo molto semplice, lo scoppio della seconda guerra mondiale in Europa determina l'immigrazione di molti artisti europei che sfuggono appunto alla guerra, anche artisti ormai anziani come Piet Mondrian che lascia i Paesi Bassi e si trasferisce a Nova York e la presenza di tutti questi artisti feconda un ambiente culturale e artistico che effettivamente stava già molto fermentando, dove c'erano già molte novità e da vita questa esplosione è veramente incredibile, dove hanno un ruolo importante anche alcuni collezionisti, prima fra tutti Peggy Guggenheim di cui accenneremo, ma andiamo con ordine e vediamo cosa stava succedendo a livello artistico negli Stati Uniti prima di questa rivoluzione. Beh, questa è un'opera piuttosto nota di Grant Wood, che è un artista noto come autore di ritratti e di paesaggi ispirato al mondo in cui viveva, ai suoi ricordi di infanzia e si tratta soprattutto di descrizioni del mondo rurale della campagna statunitense, quindi non è il mondo metropolitano di New York, ma quello delle grandi campagne degli Stati centrali degli Stati Uniti. Lo stile, come potete notare, nitido, analitico nei dettagli, molto raffinato nelle scelte cromatiche, il titolo tra l'altro è tutto un programma, American Gothic, quindi c'è questo senso anche di recupero di una tradizione europea, ma applicata alla rappresentazione rigorosissima di questa coppia appunto, che non è che ci ispiri questo enorme, come dire, senso di allegria, ma che comunque è una rappresentazione fedele di una certa America, perché sapete noi a volte tendiamo a identificare un po' troppo gli Stati Uniti con le grandi città della costa orientale o di quella occidentale, ma in mezzo c'è tanto altro e tanto di diverso. E poi un altro artista che va per la maggiore negli anni 30 e anche nell'inizio degli anni 40 è Thomas Hart Benton, che avevo già citato la volta scorsa, come autore di quel dipinto dei seminatori di odio, dove c'era quella sorta di caricatura di Benito Mussolini che invece che seminare grano seminava teschi umani, seminava morte. Secondo anche i dettami della Farm Security Administration, questo grande progetto lanciato dal presidente Roosevelt, per promuovere un'arte basata anche sulla committenza pubblica, quindi un'arte non soltanto inserita nei circuiti del mercato, ma proprio basata su un intervento diretto dello Stato. È un artista interessante che anche lui prende a soggetto, come dire, le condizioni di vita, situazioni delle grandi campagne statunitensi, come in questo dipinto un po' western, la tempesta di grandine, diciamo che è un po' illustrativo se vogliamo fargli le pulci, però sicuramente di grande capacità evocativa e poi tipico per i suoi colori sgargianti, per queste linee mosse, avvolgenti, che creano qualcosa che è un pochino fumettistico, ma lo dico ovviamente senza volerlo sminuire, anche perché il fumetto, come sappiamo, non è qualcosa di inferiore, è un'altra arte, però c'è questo forte senso narrativo. Ma il grande genio della pittura statunitense prima dell'esplosione della scuola di New York è ovviamente il famosissimo Hopper, che ritrae questi scorci urbani, edifici isolati, strade abbandonate, e soprattutto questi personaggi da cinema hollywoodiano degli anni 30-40, sono personaggi il cui carattere saliente, però se ci badiamo, è l'incapacità di comunicare, sono quasi sempre delle scene molto silenziose, anche qui gli avventori in questo sparuto caffè sono silenziosi, c'è un personaggio solitario, un'altra coppia che però non vediamo in tenta in una conversazione, ed è questo mondo di bar, di motel, di ristoranti di periferia, che ci ricordano appunto, come in questo Sparvieri della notte, gli eroi sconfitti di un'America avvolta nella malincolia, nel lirismo, una pittura molto poetica. Ma appunto, vi dicevo, questo è lo scenario, già comunque vivace. Ma poi succedono delle cose, succede che vengono collezionate opere d'arte surrealiste, come quelle di Joan Miró, il grande pittore catalano del surrealismo, e succede che parecchi artisti europei, come vi anticipavo, soprattutto surrealisti, si trasferiscono negli Stati Uniti. Anzitutto, i due grandi teorici del movimento surrealista, ovvero Breton e Masson, si trasferiscono a New York, ma anche un pittore come Yves Tanguy, che qui vediamo in un dipinto del 28, il Giardino Oscuro. appunto, vanno negli Stati Uniti, dove trovano la possibilità, anzitutto, di continuare a lavorare più serenamente, e di entrare in contatto con una scena artistica, e anche mercantile, ormai molto attiva. Insomma, avviene questo passaggio di testimone. Anche Max Ernst è uno dei grandi pittori surrealisti, questo è un suo capolavoro assoluto, dal 1943-44, dove vediamo questo paesaggio metamorfico, fatto di queste concrezioni rocciose, ma anche organiche, con quella sorta di globi oculari, che sembra che ci stiano osservando, da questi misteriosi paesaggi, e vedete in basso a destra quella figura, che sembra quasi una sirena appoggiata su una roccia, che crea appunto questa ambientazione molto misteriosa. E poi appunto c'è Peggy Guggenheim, la grande erede della famiglia dei Guggenheim, che sono quelli che, tra l'altro, avevano da poco realizzato il suo progetto dell'architetto Frank Lloyd Wright, il grande museo, tuttora esistente, a New York, vicino a Central Park, dove erano esposte le grandi opere dell'arte contemporanea europea. E quindi il confronto tra queste grandi espressioni dell'arte europea, i nuovi fermenti statunitensi, producono qualcosa dal carattere molto originale. e bisogna dire che, peraltro, la pittura statunitense si sviluppa attorno anche a un nuovo modo di vivere, che viene fatto proprio dagli esponenti della pittura, da un vero e proprio American way of life, che è diverso da quello statunitense, un'idea di un'esistenza più libera, più pragmatica, che pone l'agire al centro di tutto. Diciamo che gli statunitensi, in quell'epoca, poi dopo c'è stata una maggiore, come dire, fusione tra gli Stati Uniti e la vecchia Europa, ma in questo periodo gli statunitensi sono più liberi dal culto secolare della forma e concepiscono la pittura come un'esperienza vitale. E poi, osservazione, che può sembrare banale, ma che effettivamente colpisce, secondo me, nel segno, le dimensioni stesse del paese influiscono molto. E quindi gli statunitensi sono naturalmente portati a realizzare opere di grande formato. I pittori europei, è proprio un retaggio culturale, i pittori europei praticano anche grandi formati, ma le dimensioni medie del dipinto di un pittore europeo sono, diciamo, quelle da collocazione nella normale casa di un collezionista europeo. Ma lo statunitense ha in sé l'idea delle grandi tele, delle enormi tele. E quindi, come dire, sembra adesso una banalizzazione, paese grande, dipinto grande, come la vecchia pubblicità del pennello cinghiale, ecco. Però, obiettivamente, c'è anche un po' di tutto questo. E poi c'è questo vitalismo, c'è questa propensione per il nuovo. Diciamo che un momento decisivo è la grande mostra surrealista, la prima mostra surrealista che fu allestita a New York nell'autunno del 1942. Tra l'altro, molto innovativa anche per l'allestimento. Guardate questa foto d'epoca, con tutti questi fili tirati, tali per cui oggi sarebbe impensabile perché sarebbero trasgredite tutte le norme della sicurezza. Però, Giuliana, dico la nostra responsabile della segreteria, potremmo anche noi fare un allestimento di una mostra del genere dove la gente inciampa, poi dopo ci fa causa, perché si è fatta male. Non ci possiamo pensare per una prossima volta. Ecco, era surrealista già nell'allestimento oltre che nelle opere esposte e fece molto scalpore. Tra l'altro, vi racconto questo aneddoto un po' buffo. Peggy Guggenheim in realtà era collezionista sia dei surrealisti, sia degli astrattisti come Mondrian o come Kandinsky, che erano due fazioni estremamente avverse l'una all'altra. e allora si racconta, ma si racconta e la verità è che effettivamente che Peggy Guggenheim portasse due orecchini diversi, uno in stile surrealista l'altro in stile astrattista, ovvero lei tra l'altro era stata compagna anche di Max Ernst, anzi forse si erano pure sposati, moglie, moglie, si sono sposati, è vero. È vero, è vero, si sposarono anche. E quindi si fece disegnare appunto degli orecchini da un pittore surrealista e da un pittore astrattista e quindi per non fare torto a nessuno dei due portava questi due orecchini differenti. E appunto anche i surrealisti hanno la loro importanza. Attenzione, Kandinsky muore nel 44 vicino a Parigi, quindi non va negli Stati Uniti, non fa come Mondrian che lascia la vecchia Europa, anche se muoiono nello stesso anno, entrambi nel 1944, però obiettivamente la circolazione, il collezionismo delle opere di Kandinsky, molte delle quali varcano l'oceano, è un ulteriore elemento fecondatore insieme con il surrealismo. Quindi capirete che un'opera come questa di Arshel Gorky non è un'opera che salta fuori a caso. Ah, ora, vi faccio una premessa metodologica. Per quanto riguarda i titoli, gli ho tradotti in italiano dall'inglese perché mi sono reso conto che in tutte le lezioni precedenti per titoli in lingua tedesca, francese, spagnola, avevo sempre tradotto i titoli in italiano. Quindi l'ho voluto fare anche in questo caso perché altrimenti si sarebbe creata una discrepanza. E se vedete un'opera come questa di Gorky, uno dei grandi geni, uno dei grandi iniziatori della scuola di New York, capite bene che è una sorta di fusione tra l'astrattismo di Kandinsky, del Kandinsky degli anni dieci e un surrealismo che è imparentato soprattutto con quello di Miró, che sono, diciamo, le due matrici. E poi naturalmente c'è la personale originalità dell'artista che era armeno, armeno di origine. Sapete, gli armeni sono stati esuli a causa del genocidio degli ottomani che ne hanno uccisi a milioni di armeni. Quindi un popolo ahimè in fuga, perennemente in fuga. Si stabilì a New York e forse in lui più che in altri, tra poco vedremo Pollock, è evidente questa fusione della matrice surrealista con quella kandinskyana e l'utilizzo dei colori, il trattamento dello spazio e anche il tentativo potremmo dire di risoluzione del conflitto tra il mondo tragico e ricco di tradizioni delle proprie origini europee e armene. Ricordiamoci che l'Armenia è Europa sia geograficamente che culturalmente e anche la solitudine che si trova Gorky a vivere nel mondo statunitense. Solitudine che forse più che in questo dipinto traspare in quest'opera del 1947 Agonia che tra l'altro precede la morte di Gorky che avviene nel 1948 ahimè. Come? Sono opere di dimensioni piuttosto grandi ma non come quelle di Pollock diciamo che Gorky è ancora molto europeo non c'è ancora questo passaggio si capisce bene quando un artista è un europeo trapiantato e quando è uno statunitense nato e cresciuto negli Stati Uniti e nato e cresciuto negli Stati Uniti proveniente dal remoto Wyoming proprio il paese più agricolo più lontano da tutti è proprio Jackson Pollock che comincia a dipingere presto lascia appunto le fattorie della propria terra d'origine e negli anni 30 fa una pittura che potremmo definire espressionista come in questo dipinto La Fiamma dipinto che evidentemente guarda alle esperienze dell'espressionismo tedesco soprattutto ma dove c'è già una carica una forza un vitalismo pienamente originali ma via via l'arte di Pollock evolve anche perché Pollock nel frattempo conosce la pittura surrealista che soprattutto lo influenza e lo suggestiona molto vede e si ispira anche al modello picassiano e nelle opere dei primi anni 40 come questa maschio e femmina che è del 42 non siamo ancora nell'informale ma c'è molto di picassiano guardate vi faccio notare soltanto un piccolo dettaglio questo volto con quei due occhi dalle ciglia fortemente marcate che sono evidentemente una sorta di ripresa di un stilema tipicamente picassiano ci sono anche però componenti surrealiste e anche come in questo caso delle figure quasi magiche e totemiche che testimoniano anche la sua passione per le espressioni artistiche primitive e cosa molto interessante per la cultura dei nativi americani e anche per l'interesse di Carl Gustav Jung quindi per un certo filone della psicanalisi quindi vedete quante componenti si fondono l'archetipo junghiano la cultura dei nativi americani i nativi americani non dipingevano dipingevano ma non avevano l'idea del dipinto come un oggetto una tela una tavola anzi molte loro opere erano realizzate con la sabbia e sulla sabbia con l'idea proprio di nascere per essere effimere tutta questa serie di suggestioni ribadisco da un uomo che veniva dal Wyoming quindi che non era nato e cresciuto in una grande città ma che quindi era a contatto ancora con questa con questa terra porta l'abortazione di qualcosa di profondamente nuovo e quella che poi viene chiamata action painting che letteralmente vorrebbe dire pittura d'azione anche se l'espressione tradotta non rende proprio alla perfezione lo ritroviamo ed esplode attorno alla metà degli anni 40 questo dipinto nel 1947 riflesso dell'orsa maggiore all'inizio nei titoli è come se Pollock quasi avesse delle remore ad abbandonare totalmente dei retaggi figurativi ovvero un rimando a qualche rappresentazione in questo titolo è un po' come se l'artista ci volesse suggerire un riferimento ad una visione cosmica ma molto presto Pollock si spoglia di queste di queste remore e quindi i suoi dipinti cominciano ad essere intitolati semplicemente painting quindi painting number one painting number two quindi proprio dipinto l'oggetto la cosa in sé allora come erano realizzati questi dipinti ecco questo è il dipinto numero uno del 1950 erano realizzati così anzitutto vi ho messo questa foto perché vi rendete conto di due cose primo delle dimensioni delle opere di cui vi rendete bene conto secondo del metodo di lavoro non sono dei supporti che Pollock teneva sui cavalletti anche perché per sorreggere delle tele del genere ci voleva forse una fila di cavalletti ma che lui appoggiava direttamente per terra e poi ci camminava letteralmente sopra e la sua tecnica che è stata definita il dripping dal verbo to drip quindi sgocciolare è proprio consente in questo lui che tinge il pennello nel barattolo di colore non c'è più nemmeno il tubetto ma proprio il barattolo la latta di colore e che poi fa sgocciolare il colore a volte anche scuotendo il pennello in maniera tale da creare queste macchie queste conformazioni informi non a caso verrà poi coniato in Europa però badate non viene coniato negli Stati Uniti il concetto di informale ovvero di un'arte che supera non soltanto l'idea della rappresentazione della denotazione non è più un'arte che rappresenta ma questo era un passaggio che era già avvenuto con l'astrattismo ma addirittura il concetto della forma perché di fatto il concetto della forma nell'astrattismo era rimasto in Kandinsky c'è la forma in Mondrian c'è l'apoteosi della forma il rettangolo mentre nei dipinti di Pollock non c'è forma c'è anche il concetto quasi di una pittura che fuoriesce dai bordi della tela cioè la tela di fatto è una porzione di un'opera d'arte che potenzialmente potrebbe non avere bordi non avere confini è una concezione all over della superficie e questo è un altro concetto importante per capire una pittura che veramente è una autentica rivelazione in Gorky noi abbiamo ancora un concetto più tradizionale diciamo del fare arte c'è ancora torno un attimo indietro c'è ancora come vedete una serie di conformazioni ma c'è una dialettica tra delle figure e uno sfondo detto in maniera un po' primitiva ci sono delle cose che emergono come quelle macchie rosse con al centro il nero e un secondo piano mentre in Pollock viene completamente meno non c'è un primo e un secondo piano è tutto sullo stesso piano non c'è più forma non c'è più contorno ma è proprio il concetto stesso di arte di pittura che cambia perché certo conta il prodotto finale ma di fatto quello che conta veramente è il gesto dell'artista quindi l'opera d'arte diventa per così dire la testimonianza dell'esserci dell'artista la testimonianza del suo gesto quasi con una componente esistenzialista non è un caso che siamo negli anni in cui filosoficamente si sviluppa l'esistenzialismo e non a caso ho utilizzato il termine di esserci avrei potuto dire in tedesco il termine coniato da Heidegger il Dasein io ora qui che sono gettato nel mondo e che lascio nel mondo una traccia del mio esserci del mio passaggio e questa traccia è il movimento del mio braccio e attraverso il movimento del mio braccio io lascio dei segni quindi l'importanza del dipinto non sta tanto nei segni ma nel mio gesto ed è per questo che si chiama pittura di azione perché la cosa veramente fondamentale è l'azione il gesto dell'artista è una tecnica questa che Pollock comincia a utilizzare nel 1946 47 che poi caratterizzerà tutta la sua produzione fino alla morte precoce anche nel suo caso nel 1956 nel suo caso è un'esistenza che si conclude purtroppo in un incidente automobilistico causato anche purtroppo dallo stato d'ebbrezza nella quale Pollock si trovava vi segnalo che nella prima sala della nostra mostra attualmente allestita pensiero video c'è proprio un film straordinario del 1951 dove si vede Pollock dipingere e l'idea geniale dei due registi di questo film è quella di far dipingere Pollock per una volta non su una tela ma su un vetro e con la telecamera con la telecamera con la telecamera con la cinepresa perdon posta al di sotto quindi è come se noi in soggettiva vedessimo proprio dall'altro lato del supporto il segno la macchia di colore che viene fatta sgocciolare direttamente sul supporto quindi è un documento molto prezioso sia per capire la tecnica sia per capire anche l'approccio che era molto anche improvvisativo ma intendendo l'improvvisazione alla maniera jazzistica quindi mi verrebbe da dire un'improvvisazione controllata un po' come nel jazz in cui si parte da un elemento dato e su quell'elemento dato poi si ricama si varia secondo però dei canoni quindi non è un'improvvisazione in cui si fa la prima cosa che passa per la testa in maniera spontaneistica quindi credo che il parallelismo col jazz possa essere utile per far capire anche il principio per far capire le modalità di realizzazione di queste opere oltre che appunto la testimonianza fotografica ci sono vi dicevo anche artisti che vengono dalla vecchia Europa uno di questi è William de Koning olandese come si capisce dal nome e dal cognome che si trasferisce negli Stati Uniti dove poi rimarrà fino alla conclusione della sua vita ecco finalmente lui è longevo è morto nel 1997 quindi ha avuto una vita piuttosto lunga insomma lui era del 4 quindi si è morto a 93 anni ha avuto una lunga vita una lunga carriera è un esponente a pieno titolo della scuola di New York tra l'altro non l'ho detto ovviamente Pollock è un esponente della scuola di New York perché dal Wyoming si trasferisce a Nuova York dove viene valorizzato scoperto lanciato proprio da Peggy Guggenheim che trova in lui un genio e soprattutto Peggy Guggenheim capisce che in questo è veramente geniale un po' come dei critici come Harold Rosenberg capisce che negli Stati Uniti sta nascendo qualcosa di profondamente nuovo e di diverso rispetto a ciò che c'era prima in Willem de Kooning c'è un maggiore legame con il concetto di figurazione però tutti gli effetti è un esponente dell'action painting e anche della scuola di New York tipici e famosi sono i suoi dipinti dove c'è ancora una traccia anzi più che una traccia di carattere figurativo in un'opera come questa donna si riconosce il soggetto però il segno cromatico così incisivo i colori così vivaci di matrice espressionistica e soprattutto queste violentissime pennellate che vediamo fatte proprio con una forza e una potenza scioccanti lo annoverano all'interno della scuola di New York anche se lui per esempio non utilizza il dripping quindi in questo si differenzia in maniera piuttosto radicale da Pollock mentre Franz Klein è un altro esponente della scuola di New York in cui al contrario che in The Koning non c'è assolutamente alcuna traccia figurativa ma del resto non c'è nemmeno quella tecnica e quella saturazione della superficie che noi ritroviamo in Pollock anzi Klein si caratterizza per pochi segni molto decisi molto netti molto violenti e anche per l'eliminazione del colore perché nelle sue opere della fase matura evidentemente di fatto noi abbiamo il bianco il nero e il grigio quindi una superficie bianca e grigio chiara in diverse gradazioni e poi queste pennellate così forti e vigorose che definiscono lo spazio che definiscono la superficie tracciate con il non colore nero come però in Pollock queste pennellate sono proprio la traccia la testimonianza di un gesto quindi possiamo assolutamente parlare di informale gestuale e un altro esponente di questa corrente dell'informale anche se con caratteristiche in parte diverse è Robert Motherwell che dedica tutta una serie di dipinti alla Spagna e in particolare alla grande tragedia della guerra civile spagnola avvenuta nella seconda metà degli anni 30 sapete con l'avvento al potere del regime franchista e Motherwell appunto crea questa serie di elegie alla Repubblica Spagnola una Repubblica che non esisteva più con un fare quasi ritmico scandendo la superficie anche lui come Klein utilizza il bianco e il nero scandendo la superficie con una con queste pennellate con queste forme con una tensione quasi simbolica in cui appunto c'è assolutamente il concetto il superamento del concetto tradizionale di forma che però si traduce in una maniera differente queste forme ovoidali peraltro hanno un riferimento preciso molto mediato naturalmente alla figura del toro e in particolare ai testicoli del toro che come dire sono per così dire trasfigurati quindi il toro visto un po' come l'animale simbolo della Spagna per via della corrida visione un po' riduttiva mi viene da dire della Spagna e quindi appunto questa rappresentazione in cui è un punto di partenza che però è effettivo sì lo dico perché siamo registrati e quindi poi dopo le domande non emergono quindi poi le ripeto io mi si chiedono le dimensioni sono tutte opere quelle che vi sto mostrando di grandi dimensioni sono opere di un metro e mezzo per tre metri sono tutte opere veramente di dimensioni molto grandi quelle che vi ho mostrato sinora anche quelle di De Koning mentre questo questo è un dipinto che potete vedere piuttosto vicino perché è conservato a Capesaro a Venezia e invece è un dipinto piccolo Mark Tobey è un po' l'eccezione che conferma la regola non tutti i dipinti di Mark Tobey sono di piccole dimensioni questo lo è altri no ve lo segnalerò mano a mano Mark Tobey diciamo che si distingue perché forse l'artista di questa nuova scuola statunitense che dà una grande importanza al segno più che al gesto quindi la sua pittura è più meditata meno caratterizzata da questi gesti imperiosi e decisi e da queste pennellate violente anzi lui riprende anche alcune tecniche di stesura del colore in questo caso si tratta proprio di inchiostro inchiostro di china con varie diluizioni le riprende dalla tradizione orientale in particolare giapponese perché c'è in lui una grande attenzione a questa componente sia dal punto di vista tecnico sia anche dal punto di vista quasi spirituale quindi si caratterizza in maniera diversa rispetto ad altre artisti e sviluppa appunto queste opere con tanti piccoli segni calligrafici potremmo definirli ripetuti che riempiono la superficie senza soluzione di continuità e quindi a differenza rispetto alle tele cosparse dal gesto istintivo di Pollock la pittura di Mark Tobey come in questo in questa opera volo di notte possiamo definirla quasi un atto contemplativo che appunto possiamo comprendere anche alla luce della conoscenza delle culture orientali da parte dell'artista questo è un dipinto di dimensioni piuttosto grandi ma non siamo nelle enormi tele di Pollock è un concetto diverso e poi la pittura di Tobey diventerà sempre più basata su questo concetto di reiterazione di un segno come queste virgole che se ci badate di fatto è come se fossero dei frammenti di calligrammi e di ideogrammi e pittogrammi della scrittura giapponese che vengono ripetuti però di fatto è informale perché anche qui non c'è più il concetto di forma non c'è più geometria naturalmente ma neanche un concetto di una forma ma di un qualcosa che ormai ha superato di gran lunga le vecchie categorie vecchie insomma le categorie dell'arte europea non le definirei vecchie perché comunque la storia dell'arte come la storia to cure è fatta di corsi e ricorsi quindi anche ciò che magari appariva vecchio finito e superato poi è riapparso successivamente quindi il vecchio e il nuovo e soprattutto l'evoluzione e l'involuzione sono concetti che andrebbero banditi dalla storia dell'arte perché di fatto la storia dell'arte non è fatta come dire come un crescendo non è che ciò che viene dopo è migliore di ciò che viene prima semplicemente come dicevano i grandi studiosi della scuola di Vienna d'inizio novecento ai quali peraltro reggianti si rifaceva ogni epoca esprime il proprio Kunstvollen che è un termine tedesco difficilmente traducibile letteralmente Kunstvollen vuol dire volere arte noi potremmo tradurlo in italiano la propria intenzionalità estetica quindi ogni epoca esprime attraverso l'arte come dire un obiettivo un'intenzione che rispecchia la società la mentalità di quella determinata epoca e quindi quella visione che noi abbiamo un pochino ereditato da Vasari tale per cui sì si parte c'è Cimabue poi Giotto arriva dopo Cimabue ed è migliore perché introduce la prospettiva anche se rudimentale poi arriva Masaccio poi arriva alla perfezione con Raffaello poi si decade è una visione profondamente sbagliata perché l'arte appunto non è fatta di decadenza o di ascesa ma è fatta di espressioni ognuna delle quali è appunto frutto del proprio tempo scusate per la piccola parentesi di teoria dell'arte ma cominciando a trattare anche di espressioni così lontane mi rendo conto da un certo sentire comune mi sembrava opportuno introdurla vi mostro anche un'opera di San Francis anche se anche se da un certo punto di vista è un po' improprio perché San Francis non fa parte della scuola di New York bensì della scuola del Pacifico perché oltre alla scuola di New York si sviluppa poi anche tutta una corrente di grandi pittori californiani che hanno come dire anche degli orientamenti diversi tra l'altro San Francis è un artista che rispetto agli altri viaggia molti in Europa e si caratterizza anche per un per un approccio più lirico e per una attenzione molto spiccata al colore a queste forme organiche capiamo che come dire c'è una differenza piuttosto marcata rispetto a ciò che avviene nella scuola di New York quindi si parla proprio di scuola del Pacifico viene così definita in parte in contrapposizione con la scuola di New York scuola di New York che però non si limita ovviamente all'action painting all'informale inteso come l'abbiamo appena visto ma che comprende anche una pittura molto più rarefatta come quella di Mark Rotko per citare un esempio Rotko è un artista come dire persino difficile da inquadrare nella storia dell'arte perché come se stesse al di fuori occupasse uno spazio tutto suo la sua per definire la sua pittura sono state coniate molte definizioni quella più invalsa è color field painting che letteralmente sarebbe anche qui le traduzioni proprio non rendono molto pittura di campi colorati però se la diciamo così si capisce molto mentre alcuni storici dell'arte italiane hanno coniato un'espressione che io stesso non capisco molto ovvero astrazione post pittorica ve la cito ma prendendone alle distanze però sul libro di storia dell'arte che io dovetti studiare all'università si utilizzava questa espressione di astrazione post pittorica ma si è post pittorica allora non è fatta con la pittura ma lui utilizzava la pittura quindi mi siamo un po' contraddittoria comunque non voglio fare polemica con i coloro che hanno coniato questa espressione piuttosto cerchiamo di capirci qualcosa Rotko era un ebreo di origini russe emigrato negli Stati Uniti però molto presto lui era del 1903 e si trasferì negli Stati Uniti nel 13 quindi quando aveva 10 anni quindi di fatto ha conservato in sé un retaggio di queste origini ma è cresciuto statunitense è diventato profondamente statunitense cioè non è stato in Europa durante la stagione dell'esplosione delle avanguardie ha vissuto da americano ha un percorso anche lui evidentemente graduale quindi non è che comincia subito facendo opere come queste quindi all'inizio ha un interesse per l'automatismo surrealista ma anche per colori densi profondamente espressivi ma è proprio nel dopoguerra nel secondo dopoguerra ovviamente che la sua pittura si fa più personale con rapporti cromatici molto sofisticati e con queste sue ampie superfici quasi monocrome e soprattutto definite da contorni incerti di fatto è come se ci fossero dei colori come posso dirvelo come se i suoi colori fossero gassosi cercate di immaginare le opere di Rotko come se i colori non fossero stesi con delle pennellate sulla tela ma aleggiassero come se non avessero contorni ma fossero delle nubi colorate che creano delle configurazioni variabili con dei piani diversi qui il colore è ancora abbastanza definito ma ci sono poi delle opere mano a mano andando avanti nel corso degli anni 50 dove anche i confini si perdono non ci sono più non sono ben delineate né separate queste campiture di colore questi campi di colore ma creano proprio questo effetto di una sorta di vapore colorato quindi un colore liquido trasparente tra l'altro distribuito con estrema pazienza da questo punto di vista è l'esatto opposto di Pollock Pollock che faceva le opere in maniera quasi violenta mentre Rotko in maniera estremamente meditativa con velature su velature quindi da questo punto di vista un pittore anche molto più tradizionale se vogliamo ma non tradizionale sono gli esiti di questa sua pittura dove alla fine se riduciamo all'osso sono dei rettangoli irregolari affiancati ma appunto che esprimono qualcosa di di aniconico quindi non figurativo ma che va al di là del concetto di forma e questo alla fine lo accomuna agli altri esponenti della scuola di New York alla fine ancora una volta il superamento del concetto di forma perché questi campi di colore non sono delimitati è come se aleggiassero via via verso la fine della sua vita che si conclude ahimè con il suicidio i colori di Rotko diventano più cupi più scuri devo dire che sono quasi un'espressione anche di questo incubirsi della sua visione e anche come dire le campiture sono più definite lo vediamo chiaramente in un dipinto come questo però verso la fine della sua vita Rotko compie una grande monumentale impresa che è quella appunto della realizzazione di grandi dipinti e questa foto è importante perché vedete anche le dimensioni che come giustamente sottolineato anche prima sono fondamentali per intendere questa pittura sono queste grandi opere realizzate per una cappella che si trova a Houston Texas quindi la De Menil Chapel pensata come cappella ecumenica quindi un luogo per la meditazione per la preghiera ma aperta volutamente gli esponenti di tutte le religioni quindi senza simboli religiosi senza la raffigurazione perché il concetto stesso di raffigurazione sarebbe andata contro la religione ebraica contro la religione musulmana che come sapete rifiutano il concetto di rappresentazione quella musulmana ancora di più quella ebraica diciamo più possibilista e quindi questa cappella ecumenica è rimasta come l'ultimo grande capolavoro della carriera di Rotko appunto purtroppo interrotta dal gesto di cui vi dicevo Rotko ha avuto un rapporto importante con vari compositori in particolare con Morton Feldman il quale ha scritto un brano musicale la Rotko chapel perché alla fine questa cappella ha preso il nome del pittore che ha realizzato queste grandi opere ed è un brano musicale in cui non voglio spiegarvelo troppo ma il concetto di rarefazione e di assenza di forma che noi abbiamo nelle opere pittoriche di Rotko viene reso con strumenti musicali si parte quasi da un brusio indistinto ai confini tra il suono e il silenzio e via via ci sono degli eventi sonori che però è come se aleggiassero su un tappeto di al confine tra suono e silenzio dura 25 minuti ovviamente non ve lo farò ascoltare tutto ma ascoltiamo insieme insomma due o tre minuti cercando appunto di entrare anche nello spirito di questa composizione e soprattutto di cogliere la profonda assonanza espressiva tra la pittura e la musica che Grazie. 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 No, spero che sia stata un'esperienza in qualche modo suggestiva. Altro esponente della scuola di New York, vedete, sono tutte individualità molto spiccate e pronunciate, quindi hanno tutti un tratto in comune, ma ognuno ha una propria, dà un proprio contributo. Clifford Still, che ci propone questa pittura a grandi zone irregolari di colori densi, in questo caso il giallo, il bianco e questo non colore, questo nero, per cui quasi, come dire, si crea un gioco negativo-positivo, quindi non sappiamo più se è il giallo in primo piano, il nero in secondo piano o viceversa. Non è nemmeno una domanda da porsi, però è un effetto che la visione di un dipinto come questo ci suscita. Certamente è una pittura che esprime un senso di lacerazione, un senso di contrasto, perché potete notare non è forma, ma, come dire, l'assetto stesso delle pennellate ci dà un senso di drammaticità, proprio di lacerazione, che caratterizza la pittura di Clifford Still. E invece, nel caso di Barnett Newman, siamo sempre nell'ambito di questo filone, diciamo, più rarefatto, in un certo senso, rispetto al polo opposto rappresentato da Pollock, abbiamo Barnett Newman, che possiamo, in qualche modo, avvicinare a Rotko. Anche lui è considerato, infatti, un esponente della Color Field Painting. E la sua pittura è caratterizzata da queste ampie bande monocrome, di un colore piatto, senza sfumature, animate da sottili strisce, che contrastano cromaticamente rispetto al fondo, se così possiamo chiamarlo, e sono illuminate dalla contrapposizione fra tonalità, spesso stridenti. Quindi, volutamente, anche i due colori che compongono le composizioni sono in contrasto tra di loro. Opere molto essenziali, che sono portatrici anche di significati religiosi. Nel caso di Barnett Newman, legati in particolare all'antica cultura spirituale ebraica. Ci sono anche componenti cabalistiche, per esempio, nella proporzione, nelle distanze tra queste bande che attraversano la superficie. Quindi, non c'è nulla di casuale. È tutto attentamente calcolato per ottenere, appunto, questo approccio a una pittura che è estremamente intimistica e mistica, anche rispetto a quella degli esponenti dell'action painting, e che in qualche modo si avvicina a Rotko. E' interessante che Barnett Newman abbia anche realizzato una via Crucis. Certamente è molto diversa rispetto alle vie Crucis a cui siamo abituati. Qui vedete, appunto, le prime sei stazioni. Le ho raggruppate in tre slide. Quindi, appunto, in alto a sinistra è la prima stazione, seconda stazione. È un ciclo che Newman ha fatto nel corso, appunto, di diversi anni, tra il 1958 e il 1962. Quindi qui vedete le prime sei stazioni. Notate anche i piccoli dettagli, come, per esempio, i casi in cui, vedete, nella quinta stazione la banda nera è sfrangiata, quindi non è precisamente definita, ma è come se perdesse dei rivoli di colore che possono significare molte cose, come, per esempio, un'idea di sanguinamento, ma non dal punto di vista didascalico, ma sempre da un punto di vista metaforico. Queste sono le stazioni 7 e 8, più regolari, scandite, e poi le ultime stazioni. Vi faccio notare l'ultima, che di fatto è una rappresentazione della Ressurrezione. Notate che la stazione 12 e la stazione 13 sono quelle dove dominano i colori cupi, i neri. Sono le stazioni della morte di Gesù in croce, ma nell'ultima si passa a un bianco assoluto, bianco, un monocromo totale, ovvero la Ressurrezione. Quindi capite che c'è un ragionamento anche teologico molto profondo dietro a questa resa, appunto, di uno dei topoi della tradizione religiosa cristiana, che appunto viene espressa anche attraverso forme assolutamente prive di ogni retaggio figurativo. Ecco, è un'opera che ha occupato a lungo Barnett Newman, che poi è stata esposta in una grande mostra, importantissima, che si tenne nel 1980 a Berlino. Sono riuscito a trovare questa foto, anche se non bellissima, in bianco e nero, che ci dà appunto l'idea anche delle dimensioni delle opere, che sono sempre cospicue, anche se non enormi, e della loro successione. E quindi ci dà un'idea anche molto cadenzata della maniera in cui Barnett Newman aveva pensato l'esposizione di queste opere. Insomma, è un'installazione posto, ma perché lui morì nel 1970, la mostra Zeichen des Klaubens, vuol dire segni del credere. Ed è una delle mostre più importanti fatte nell'ultimo cinquantennio sui rapporti tra la spiritualità e l'arte contemporanea. Un po' come Trace du Sacré, che si tene invece al Centre Pompidou, sempre negli anni Ottanta. E infine concludiamo con Adre Einart, che lui è venuto a mancare più o meno negli stessi anni di Rothko, nel 1967. E diciamo che siamo proprio qui davvero agli estremi della pittura, perché le opere di Einart sono di solito basate sulla presenza di due colori, che però, al contrario, che in Barnett Newman non sono tra loro contrastanti, ma vicinissimi. Adesso non so, sì, si nota, via. Solo proiettare le immagini delle opere di Hart Einart è sempre piuttosto arduo, perché non è semplicissimo cogliere questi minimi scarti cromatici. Quindi, in realtà, in un'opera come questa, che lui intitola semplicemente Dipinto, come quasi tutte le sue opere, abbiamo di fatto una croce, una croce greca, che però cogliamo di solito, ve lo assicuro, fidatevi, avendole viste dal vivo, di primo acchito, al primo sguardo, sembrano monocromi. Poi, nelle immagini, aumentano un pochino il contrasto, perché altrimenti lo stampatore probabilmente si suiciderebbe come Rothko, ma per altri motivi. Quindi, ma in realtà dal vivo, di primo acchito, per i primi secondi, le opere sembrano veramente monocrome. Poi, mano a mano, il nostro occhio, ovvero il nostro cervello, perché ovviamente noi vediamo col cervello, l'occhio è soltanto uno strumento, si abitua e riconosce quel leggerissimo scarto cromatico che ci fa apparire la differenza, e in questo caso appunto la presenza di una croce, anche qui con una componente evidentemente mistico-religiosa. Quindi, vedete, sarebbe stato insospettabile, siamo partiti con la vitalità esasperata di Pollo che finiamo quasi in un alone mistico, minimalista. Diciamo, qui non si tratta di minimalismo, perché il minimalismo sarà una corrente che arriverà successivamente con caratteri diversi. Però, appunto, questi impercettibili accostamenti traumatici sono significativi e ci rimandano anche all'antico ormai, rispetto a questi anni, esempio del suprematismo di Malievic, perché non dimentichiamo che sono tutti artisti profondamente colti che arrivano a queste forme espressive, estreme, sulla base anche di una conoscenza molto profonda dei precedenti. Anche l'adozione del formato quadrato è evidentemente un retaggio del Malievic suprematista. Ricorderete il quadrato nero su fondo bianco e addirittura il quadrato bianco su fondo bianco. Quindi, come dire, è quella la matrice e l'utilizzo del pigmento a olio è anche fatto con dei procedimenti tali per cui le campiture sono fatte in maniera tale da assorbire più o meno la luce, da essere più o meno opache. Quindi, un'estrema raffinatezza. Ma di lì a pochi anni avverrà una nuova rivoluzione. Avevo pensato di mettere un'ultima immagine per fare un contrasto violento con questa, però forse sarebbe stato troppo, perché dopo questa rarefazione la pittura statunitense viene travolta letteralmente dalla pop art. Però, ecco, mettere un Andy Warhol dopo Ad Reinhardt sarebbe stato un pochino troppo. Quindi, ne parleremo la prossima volta se vorrete esserci e per questa sera concludiamo silenziosamente e misticamente con Ad Reinhardt. Grazie. Applausi Grazie. Grazie.